Sono stati tracciati solo dove le forze militari di un paese arrivavano in quel momento a mettere la loro bandiera. Quindi se noi dovessimo ridisegnare l'Africa sulla base delle popolazioni come sono, la carta geografica sarebbe completamente evoluzionata. La seconda cosa che vi permetto di aggiungere, è stata molto puntuale la professoressa, come ho detto prima, che in quella vicenda che ha creato purtroppo l'inizio del baratro per immaglie per l'Africa occidentale e tutta, posso dire, ci sono ancora degli aspetti molto scuri che chissà quando la storia vorrà scriverli per come si sono sviluppati, perché troppi soggetti che hanno ancora il potere non hanno interesse che si scriva la storia come si mostra. Mi fermo ad un dettaglio, vi faccio fare una riflessione, non voglio spingerti di un lato, perché non voglio, ho creato qualche volta qualche incidente diplomatico, non voglio reiterare questo mio lato di insieme. Ma voi pensate a questo, sentiamo tutti i giorni ad esempio a livello di intercettazioni che ci sono degli strumenti per cui da un satellite che non vedo qui a Bologna riescono a registrare e orecchiare quello che ci stiamo dicendo dietro una porta. Quando è stata attaccata la Libia delle forze internazionali, dove l'Italia ha fatto forse l'errore più drammatico della sua storia recente, Gheddafi aveva qualche migliaio di mercenari, gente professionalmente, se possiamo usare questo aggettivo, molto brava perché non aveva pregiudizi di nessun genere e faceva solo la guerra con tutti gli strumenti perché gli armamentari di Gheddafi di Arsenali avevano tutto, dalla fionda quasi alla bomba atomica. Bene, ad un certo momento, quando si trattava di disarmare, di neutralizzare, secondo la logica di chi la guerra l'ha voluta, i mercenari di Gheddafi, ad un certo momento è successo dove questi signori sono usciti dalla Libia portandosi di Arsenali e saccheggiando le banche. Nessuno ha visto, sono in grado di sentire cosa ci diciamo dietro una porta, nessuno ha visto che si muovevano 7000 persone con i pick up per la guerra del deserto, con 10 datterie di missili terraria, 100 spiegazioni da in questa sede, non voglio parlare, perché c'è un nome e un cognome per quello che è venuto, però non voglio parlare in questa sede. Per cui, che cosa è successo a questo punto? Dove è nato anche il problema? Perché questi signori si sono trovati, alcuni si sono sbandati, delle migliaia di mercenari che erano a servizio di Gheddafi, gli altri non si sono sbandati. E siccome erano in cerca di lavoro, c'è chi gliel'ha offerto anche al Cairo con i soldi, sappiamo benissimo da dove erano, ma oggi io non ve lo posso dire ufficialmente. Ve lo dico in un angolo e poi mentirò di averlo detto. Chiedo scusa se ho precisato qualche... Vede signor Consone, i grandi esperti di geopolitica che ci affliggono tutti i giorni nelle nostre televisioni, non solo non sanno niente, e se lo sanno non lo dicono, ma proprio non hanno mai ragionato su quello che lei dice, che è esattamente vero, perché non solo sono stati in gruppi duali, ma sono stati in sud e sud, sono andati in una Repubblica Centro-Africana, di nuovo in un gruppo di cui nessuno più dice niente, come non succedesse eccetera eccetera, e così via. Grazie ancora per questi interventi, come lei ha già proposto, questa è anche l'idea di questo incontro, non è tanto formale come lo vedete, ma ci sono tanti punti interessanti in cui ognuno può andare oltre un giorno, ma possiamo parlarne. Su cui, come prima avete visto, vi presento Giulio, vi presento Giulio che... Già, come vedete, sono l'aprile del 2013, le immagini testimoniano, bastano per testimoniare, perché comunque sono momenti, erano momenti difficili, anche oggi sono momenti difficili e mali, comunque le persone, esse italiane, altre persone vanno sempre, incontrano magari delle difficoltà, ma ci sono sempre aperture da noi che comunque non ti sentirei mai da solo, quello è esistito e esisterà sempre. Su cui adesso passo la parola alla professoressa Valeria Baccari, che verrà a parlare un po' su quello che poi dopo verrà a parlare il professore Giacomo Matti. Grazie. Grazie per l'invito, molto stimolante questo dibattito e anche io vorrei portare il mio contenuto. Poi se, magari, io parlerò di tutto il versante psico-sociale. Se qualcuno ha delle difficoltà anche, insomma, sia linguistiche sia anche di contenuti, a comprendere quello che dico, poi magari mi chiedete e abbiamo qualche minuto poi per cercare un po' di chiarire le cose. Quello che io cerco di dire è, stiamo cercando qua Bologna, assieme a Osman e altre realtà, di far incontrare e conoscere varie etnie, varie società con la realtà italiana. Qual è il problema principale? Il problema principale dal punto di vista psicologico si chiama infraumanizzazione. Che cos'è l'infraumanizzazione? L'infraumanizzazione che è stata studiata da poco, sono una decina d'anni, all'Università di Lovagno, è il fatto, è un fenomeno che dice, mentre io conosco molto bene sia le emozioni primarie, sia le emozioni secondarie del gruppo a cui appartengo, non conosco altrettanto bene quello degli altri gruppi. Quindi, mentre se io ho, non so, un abitante della Papuasia capisce benissimo se un eschimese è arrabbiato, perché quella è un'emozione primaria, le emozioni secondarie che sono più complesse e sono molto culturalmente definite, sono più difficili da percepire. Vi consiglio un libro molto bello, che è uscito con Repubblica qualche tempo fa, che si chiama La trate delle emozioni umane. E voi vedete come esistono una quantità di emozioni di cui noi occidentali non abbiamo assolutamente conoscenza, perché non ci appartengono, perché le varie emozioni vengono plasmate dalla cultura. Quindi questo è importantissimo, perché se io non riesco a capire l'altro nelle sue emozioni e l'altro non riesce a capire me, è molto difficile avere un dialogo e conoscersi e, come dire, stare alla pari. In questo l'Africa ha tantissimo da dirci. Perché? Perché noi occidentali siamo estremamente darcisisti. Cioè noi ci riferiamo a noi europei, agli americani, ma non abbiamo quell'interesse dovuto alle culture altre. Non ce l'abbiamo più, non abbiamo più curiosità. La curiosità che ci ha fatto esplorare, che ci ha fatto conoscere, che ha fatto questi tentativi di quella che si chiama, nel mio ambito, cross-pollination. Cioè l'idea che io ho un'idea, tu ce n'hai un'altra, cerchiamo di metterla insieme e ne viene qualcosa di migliorativo per tutti e due. Ad esempio, riferendomi all'Africa e all'Africa occidentale in particolare, nessuno in Italia sa che nell'Africa occidentale, a Cacar, è nata, è uno dei rami di origine della legge Basaglia. L'idea che il paziente psichiatrico non debba essere guarito da medicina, eccetera, ma che debba avere una terapia di tipo sociale, quindi con i familiari, gli appartenenti al villaggio, i medici, gli infermieri dell'ospedale, eccetera, è stata maturata da un tale francese Eric Coulomb e da un tale senegalese Shetan Amdadiro, che hanno messo insieme tutte queste cose ed è uscita questa cosa bellissima che peraltro nessuno conosce, che è una rivista e una quantità di scritti sulla psicopatologia europea e africana. Che cosa ha anche ancora l'Africa da dirci dal punto di vista della società e della psicologia? Anzitutto ha tantissimo da dirci il concetto di Ubuntu, che è la mia umanità è condivisa con tutti gli altri, non so se avete visto anche il film In My Country su tutta la questione del perdono del vescovo Desmond Tutu in Sudafrica, eccetera. L'idea che esiste un'umanità comune e condivisa a cui tutti facciamo riferimento, quindi è esattamente il contrario del razzismo, della deumanizzazione, dell'infraumanizzazione dell'altro. è l'idea che dobbiamo, e che a un certo livello ha detto Gusserl con il concetto di interrelativi, la relazione, però a livello molto, come dire, di base, è un concetto tipicamente africano. Questo concetto ha una potenzialità a mio avviso enorme, perché? Perché in Mani proprio, io sono stata alcune volte, voi vedete queste moschee di fango che sono dei capolavori enormi, a un certo punto piove e quindi il fango tenderebbe a stretolarsi. Bene, chi è che sistema tutto questo fango e lo riappiccica alle pareglie? Le moschee sarebbero musulmane, ma vanno animisti, vanno cristiani cattolici, ci vanno cristiani, protestanti, evangelici, eccetera. Quindi l'idea è bella, beh, io non sono della tua stessa religione, ma non è che mi combatto come fanno i cattolici, come facevano i cattolici e gli eretici nel Medioevo. No, tutti insieme possiamo comunque collaborare a questa cosa. Quindi c'è questa cosa molto bella di non vedere l'altro come il nemico. Quindi l'alterità che però non è vista come opposizione, ma come possibilità di comprensione, appunto di cross-pollination, di impollinazione del città. L'idea che la donna non è così, cioè, sottomessa e quindi ha un suo potere all'interno di un villaggio, all'interno della società, eccetera. Tant'è vero che una delle donne, insomma, molto, come dire, in gamma anche dal punto di vista politico, che è la minata tra ore, che è venuta diverse volte anche in Italia, è una persona di grande, di grandissimo livello, che ha scritto dei libri molto interessanti, fra cui uno che in italiano si intitola, si chiama La Mossa, e che mette in rilievo quanto ci sia di coercizione da parte del Fondo Monetario Internazionale rispetto a quelle che sono le modalità anche, diciamo, pratiche, economiche dell'Africa. Poi c'è questo bellissimo film, che forse qualcuno di voi conosce, che si chiama Bamako, in cui c'è questo processo con tutti i giurati vestiti da giudici e avvocati, che fanno vedere come queste modalità estremamente, che poi non si adeguano neanche alle esigenze dell'Occidente, ma sono delle modalità estremamente, come dire, direttive, poi alla fine si inseriscono malissimo nel punto di vista e nelle esigenze africane e quindi creano dei disastri totali. Per concludere, secondo me, l'ultima cosa che riguarda specificamente i mali è questa idea che è stata sempre riciclata e che ha questa specie di fattura che ha fatto Hegel nel 1800 e non so quanto, in cui l'Africa viene vista appunto in base a questa idea molto così peregrina, molto strana, che l'Africa non abbia una storia, non abbia una storia, non abbia degli artisti specifici, non abbia, come dire, una politica, ma sia un qualcosa che è così prima della storia. Questo, Eben era un filosofo tedesco dell'Ottocento, insomma, un po' non proprio un massimo della filosofia, secondo me, e appunto diceva quello che a lui sembrava semplicemente perché non conosceva queste cose e quindi pensava di dire cose che poi non erano nella realtà. In realtà, invece, il mali in particolare ha una storia che è stata valutata tantissimo dagli etnopsichiatri. Chi sono degli etnopsichiatri? Sono degli psichiatri, quindi gente che si occupa della mente, ma che per loro cultura, per loro interesse, eccetera, sono molto curiosi di quello che succede a noi in rapporto agli altri. Tutto questo inizia più o meno negli anni 20 del Novecento, in cui questo antropologo va nel Paido Gon, che è una delle aree delle etnie nelle Mali, e da questo cacciatore cieco che assomiglia un po' a Donero, si fa raccontare una cosmogonia, cioè tutto quello che questo cacciatore pensa, racconta del suo passato e di come i maliani di Dogon vedono la realtà, che è molto, molto, molto affascinante. Dopo alcuni hanno detto che forse non era una cosa così condivisa dalla società Dogon, ma era un'idea molto personale di questo cacciatore. però in ogni caso c'è una rappresentazione del mondo che è assolutamente affascinante, assolutamente nuova. Perché? Perché mentre noi occidentali siamo molto individualisti, cioè c'è l'individuo e poi c'è tutto il contesto attorno. Invece in questo caso la visione maliana che viene riportata è che l'individuo è il nodo di una rete in cui ci sono gli antenati, ci sono i parenti, per cui l'individuo non è mai isolato come, non ha mai quel senso di solitudine, di solipsismo che abbiamo noi. No, è sempre un nodo di una rete e quindi si sente sempre in contatto sia con gli altri, sia con gli antenati, ma soprattutto con il suo ambiente. Quindi gli animali, la natura, eccetera, fa profondamente parte di noi. Quindi vedete come questa saggezza ancestrale che noi abbiamo perso e che dobbiamo assolutamente recuperare. Quindi che cosa è successo? è che il fascino di queste ricerche appunto fatte nel Mali ha attirato una quantità di etnopsichiatri. Fra questi alcuni italiani, e vi consiglierei assolutamente questo libro, di Piero Coppo, che è uno degli etnopsichiatri a livello europeo, credo mondiale, ma sicuramente italiano, che è andato a Bandiagara e ha fondato questo centro di medicina tradizionale a Bandiagara. In cui, che cosa è successo? Che non è che... Poi ci sono state io... Adesso ci sono anche alcune mie amiche che sono state... Io stessa sono state in Mali alcune volte, quindi conosco abbastanza e apprezzo tantissimo. L'idea è che la medicina tradizionale che è espressa da questi... Il libro si chiama Guaritori di follia perché è fatto di sciamani che riescono a, in qualche modo, capire e interpretare e guarire quelli che sono tutti i disturbi psichiatrici che in occidente verrebbero immediatamente ricoverati in qualche diagnosi e cura e medicalizzati. E lui ha, come dire, alla pari cercando di capire e di avere uno scambio con questi sciamani che sono assolutamente... hanno delle tradizioni di sostanze, di erbe, di cortecce, eccetera, che veramente hanno una farmacopea, cioè una medicina fatta di farmaci tutti derivati dalla brusse, dal deserto, da piante, eccetera, e hanno una prassi enorme. Lui cita, non so, degli sciamani che riescono ad aggiustare le ossa senza... e le aggiustano benissimo senza bisogno delle lastre, dei raggi, eccetera, ma con il fatto di... e poi hanno queste enormi competenze psicologiche con cui lui ha in qualche modo, si è in qualche modo relazionato. Quindi tutto questo per dire che noi europei, così come anche da parte loro, credo, gli africani, abbiamo un enorme interesse nel condividere e nel fare questa cross-pollination di nozioni, di visioni del mondo, perché soltanto in quel modo, non soltanto ci possiamo dialogare con l'altro, ma dal dialogo uscirebbero sicuramente delle cose di molto, molto, che sono molto anche sopra delle conoscenze sia nostre, sia africane. La cosa che dobbiamo fare è quella invece di, come diceva la professoressa Gentili, di intersecarci, di dialogare e di discutere alla pari. Questo stiamo cercando di fare qui a Bologna e cerchiamo di fare qui a Bologna un polo. Io insegno interculture, quindi insomma un po' mi amo un po' di queste cose. Stiamo cercando di fare qui a Bologna un polo in cui tutto questo che sto dicendo si realizzi. In particolare qui non ci sono alcune amiche che stanno organizzando tutte le cose. In particolare stiamo cercando di organizzare un anno intero di interventi tra cui una mostra sull'arte africana in modo che quello che è il nostro diciamo un mantra un modo di pensare di base che è vivere insieme in pari dignità si realizzi nella conoscenza e nel dialogo comune. Grazie a voi. Grazie a professoressa Macari e adesso diamo la parola al prof. Giacomo Marti che viene a testimonare con noi. Grazie. Buonasera siamo contenti di venire alla sala piena dopo i due interventi che sono stati fatti faccio riferimento semplicemente nei ricordi di un po' gruppo di Mariani che sono arrivati a Polonia e leggerò una brano di un'intervista che è stata fatta a Silvia Lena che anche lei si occupava di classi di inedigenze di riunire gruppi eccetera la seconda che sarebbe la prima cosa da dire è che la professoressa Giovanna Mettoli mi ha chiesto di rappresentarla di portarvi i vostri saluti sapete già stato detto non ho potuto venire perché suo marito è ricevuto giovedì scorso una settimana fa e oggi ci sono le cremazioni quindi abbiamo ricordato di ricordare molto